buonasera a tutti ragazzi siccome avevo un po di pokemon da fare evolvere volevo mostrarvi le evoluzioni vediamo dove stanno vediamo se il trucco funziona ok confermato se volete un umbrio dovete chiamare il vostro ivi tamao se invece volete espion dovete chiamarlo sakura o sakura non mi ricordo vediamo quant'è non male guardiamo la nostra omblion e adesso andiamo avanti con venonat molto bello adesso un pg così per l'esperienza dai sono belli anche il pg pigiotto no mi diamo qui ok questo sarà un'altra puntata vediamo un ratata un'altra evoluzione un po più comune si si dai adesso andiamo avanti adesso andiamo concentrat quanto è bello furret sto giusto riempiendo un po il pg adesso ok adesso ce n'era un altro che volevo fare evolvere dov'è che è dove stai eccolo poliwag io bene ragazzi per questa puntata è tutto ci vediamo alla prossima bye